Il Comune di Castellamonte è sempre attento alle esigenze dei cittadini e soprattutto delle persone più fragili e ha messo in atto un'iniziativa con la cooperativa Astra. Io personalmente sono molto contento di questo risultato, speriamo che ci sia poi anche un contributo importante da parte delle aziende che verranno contattate ma sono sicuro di sì, questo perché laddove a Castellamonte abbiamo già svariate associazioni volontaristiche che effettuano trasporti in ambito socio-sanitario per le persone che ne hanno bisogno, quello che mancava era un servizio di trasporto per altri utenti, per altri servizi, quindi accompagnamento alle poste, altri uffici pubblici, svolgere delle pratiche, accompagnamenti per la spesa e quant'altro. Questa è una lacuna che noi stiamo cercando di colmare grazie a questa collaborazione con Astra e verrà utilizzato questo mezzo secondo tre scie di progettazione diverse. La prima è in collaborazione col CIS38, lo sportello RETI di prossimità che è già attivo nel nuovo spazio sociale nel quartiere della biblioteca e che offre un servizio domiciliare alle persone anziane di Castellamonte e questo mezzo ovviamente faciliterà il compito dei volontari. In autunno dovrebbe partire un progetto PUC con l'utilizzo di volontari per settori redditi di cittadinanza. Queste persone anche in questo caso dovranno svolgere un servizio domiciliare in favore di soggetti socialmente in difficoltà e il mezzo nuovamente sarà molto utile perché non dovranno utilizzare il proprio mezzo privato. Terza cosa non meno importante, se ci dovessero essere delle associazioni di volontariato del territorio che non hanno mezzi propri, questa macchina potrà essere imprestata per i loro fini di trasporto o comunque i loro fini statutari e questo ovviamente mi fa molto piacere. Come si sviluppa il progetto? Allora il progetto Solidarietà e Movimento si svolge chiaramente sul territorio coinvolgendo le attività del territorio proponendo loro una sorta di visibilità sulla carrozzeria della macchina che andremo a consegnare al comune. L'obiettivo finale è chiaramente appunto quello di mettere in strada questo veicolo che tornerà utile per tutti i servizi sociali e socialmente utili del comune stesso e quindi dei cittadini di Castellamonte. Il progetto oltre all'acquisto vede anche la sua manutenzione dell'automezzo sia da un punto di vista di circolazione sia da un punto di vista proprio di manutenzione. Quindi per quattro anni verranno sostenute tutte le spese che riguardano il bollo, la manutenzione ordinaria, straordinaria, assicurazione, RCA e casco con estensione utile trasportati e cambi gomme secondo chilometraggio e disposizioni di legge. Quindi un servizio che vede il comune avere un automezzo in cui dovranno solamente mettere i volontari e il carburante. Tutte le altre spese saranno appunto sostenute dal progetto Solidarietà e Movimento. La cosa importante anche da rimarcare è che non ci sarà un porta a porta e non andrete da privati. Assolutamente sì, il progetto è rivolto alle attività del territorio, quindi aziende, operatori economici o comunque professionisti non privati e non verrà fatto porta a porta perché verrà chiaramente prima anticipata una telefonata agli imprenditori per fissare con loro un appuntamento per dedicarci quei 10-15 minuti di tempo necessari appunto per spiegar l'iniziativa e per lasciare anche la lettera che poi verrà preparata insieme al comune per fare in modo che insomma il progetto sia ufficiale sotto tutti i punti di vista.